La Corea del Nord, ha minacciato di affondare il Giappone con un attacco nucleare e ridurre gli USA cenere e tenebre. È arrivata quindi la nuova provocazione da Pyongyang, che promette un'ulteriore escalation delle tensioni dopo la recente decisione delle Nazioni Unite di imporre nuove sanzioni al regime di Kim Jong-un. La minaccia giunge attraverso l'agenzia di stampa ufficiale KNA. Lo riportano le agenzie internazionali. Tokyo. Minacce sua atomica sono oltraggiose. La minaccia della Corea del Nord di voler affondare il Giappone con l'uso di una bomba nucleare è estremamente provocatoria e oltraggiosa. Sono le parole del portavoce del governo nipponico, Yoshide Suga, che ha risposto a quanto diffuso dal Corean Asia Pacific Pace Committee, agenzia nordcoreana che gestisce i rapporti con Seoul. Moon. No ad armi nucleari al sud, intanto il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha escluso la possibilità che armamenti nucleari possano essere schierati nel suo paese mettendo anche in guardia che un'ipotesi contraria potrebbe portare a una corsa alle armi nucleari nel nord-est asiatico. Moon, in un'intervista alla CNN, ha messo fine alle richieste, anche da parte di gruppi parlamentari, sulla dotazione di armi nucleari o tattiche in funzione di deterrenza verso il nord. Buterres, ONU. Azione militare avrebbe conseguenze devastanti. Una azione militare contro la Corea del Nord avrebbe conseguenze devastanti. Così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ha affermato che l'unità emersa è in consiglio di sicurezza dell'ONU sulle sanzioni, offre una opportunità per la diplomazia, e si è detto disposto a mediare se le parti lo chiederanno.